A Sapri arriva la Task Force contro l'evasione dei tributi. L'atto di indirizzo è stato approvato dalla Giunta Comunale lo scorso 4 febbraio e prevede una riorganizzazione degli uffici comunali al fine di stanare furbetti e mancati contribuenti, andando a spulciare nelle posizioni dei cittadini anche attraverso l'incrocio di banche dati. Non è una sorpresa, il sindaco Antonio Gentili aveva annunciato, quando era montata la polemica sull'aumento dell'Atari, che avrebbe messo in campo varie azioni, tra cui anche la lotta all'evasione, per cercare di ridurre in futuro le aliquote accresciute. Ed ecco fatto, nella proposta di deliberazione approvata si legge che per i tributi comunali e in particolare l'Atari risulta necessario provvedere ad urgente attività di verifiche e accertamento e per questo si dà in carico al responsabile del servizio ragioneria di procedere, ogni qualvolta dovesse prendere in esame una singola posizione, ad una ricognizione sulla regolarità del pagamento di tutti i tributi di quel soggetto. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe di comunicare all'Ufficio Tributi con cadenza settimanale tutte le variazioni del settore, quindi cambi di residenza, domicilio, elenco dei deceduti. Al responsabile del settore attività produttive di trasmettere mensilmente all'Ufficio Tributi i dati relativi alle autorizzazioni amministrative e sanitarie rilasciate. E' il responsabile del settore urbanistica di trasmettere trimestralmente all'Ufficio Tributi i dati relativi ai permessi a costruire rilasciati. Prevista inoltre la costituzione di una task force composta da tre unità di personale più un coordinatore con competenze informatiche che dovranno incrociare le informazioni e lavorare a supporto dell'Ufficio Tributi. Insomma, Sapri è scattata l'operazione Toleranza Zero sul fronte dell'evasione, ma per il gruppo di minoranza si tratta esclusivamente di propaganda. Il nostro comune, dicono da Sapri Democratica, ha uno dei tassi minori di evasione rispetto alla media nazionale. In termini di riscossione spontanea siamo a circa l'85% del ruolo. I nostri uffici fanno un ottimo lavoro. Questo atto di indirizzo dunque è un tentativo di coprire gli errori fatti e di attribuire la responsabilità ai cittadini e anche agli uffici. Pur andando a individuare le illusioni totali, continua il gruppo consigliare, il margine è talmente minimo che si può arrivare all'individuazione di un'evasione tra i 15.000 e 20.000 euro, per ottenere la quale però si dovrebbero incrementare i costi per le attività di accertamento. Secondo Sapri Democratica, dunque, le nuove disposizioni sarebbero solo un modo per giustificare la bolletta che sta per arrivare ai cittadini con un incremento del 25%, a cui dovremo andare ad aggiungere di qui a breve anche l'addizionale IRPEF.